Polverone su Palazzo San Francesco e sulle spese allegre del Comune di Isernia. A sollevare il caso è stato il consigliere comunale dell'NCD Stefano Testa che accusa la Giunta Brasiello di dare troppi incarichi legali all'esterno del Comune pur in presenza di un servizio legale interno con un avvocato dipendente dallo stesso Comune. Durissimo intervento di Stefano Testa in Consiglio Comunale. Chiede perché il Comune di Isernia nonostante abbia un avvocato continua a dare incarichi legali all'esterno. Che succede Testa? A seguito di un'interrogazione presentata nello scorso Consiglio Comunale si è acceso un dibattito acceso all'interno dei consiglieri di maggioranza teso appunto a puntualizzare alcune spese allegre del Comune e addirittura la nomina di legali esterni da parte del Comune per essere difesi nel contenzioso. Tutto questo mi ha portato a fare delle ricerche, a fare delle verifiche e in effetti è venuta fuori una situazione che è sotto gli occhi di tutti perché pubblica. Il Comune di Isernia sebbene abbia un ufficio legale interno sostiene costi per avvocati, professionisti di ottima, ottimi professionisti sicuramente ma professionisti esterni, quindi i contribuenti pagano due volte per il Comune e per le spese legali del Comune. E quando spente per i legali esterni Testa? Si può quantificare? Le delibere sono pubbliche e sono ad incarico, parliamo di migliaia di euro. Io posso un'interrogazione per porre freno a quella che è una situazione che nel perdurare potrà portare a manchi e a spese notevoli nel corso di tutta la legislatura. Di quanti incarichi si parla? Parliamo di due incarichi conferiti nel corso del 2014. Da Palazzo San Francesco immediata la replica del Sindaco Brasiello che dice nessuno spreco. L'incarico in questione dovevamo darlo obbligatoriamente all'esterno perché nella vicenda di cui si discute c'era conflitto di interessi in quanto sono coinvolti dipendenti comunali e non poteva entrare in gioco un loro collega ovvero l'avvocato dipendente dallo stesso Comune.